E adesso restiamo in tema perché siamo andati a vedere un po' quelle che sono le scaramanzie, i riti scaramantici che caratterizzano il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Se siete pronti al conto alla rovescia per celebrare l'arrivo del 2010, certo pochi avranno rinunciato anche quest'anno ad un piccolo rito propizzatorio. Per gioco, per convinzione o perché non si sa mai. Fatto sta che oggi come ieri per propiziarsi il favore del fato si potrebbe fare davvero di tutto. Ma per chi ama la tradizione, uno dei modi più classici rimane quello di donare piccoli portafortuna di marzapane. Maialini, monete dorate, spazzacamini e ferri di cavallo fino ad arrivare ai celebri funghetti che l'usanza vuole, almeno solo nella fantasia, avvelenati. E per chi ci crede si assicura la buona sorte alla faccia dei dubbiosi o degli ignari, ce n'è davvero per tutti i gusti. Lei li regala portafortuna per il nuovo anno, quei maialini di marzapane? Sì, sì, ne ho comprati già quattro. Uno per me, uno per mio marito e uno per i miei due bambini. Portafortuna veramente, secondo lei? Ma speriamo, intanto ci proviamo. No, ancora no. Ma lo farai, pensi di farlo? No. Io piccolo... Sì, piccole cose solo. Tipo? Una cioccolata o così. Ho regalato le mutande rosse per Natale, però per portafortuna e basta. No. 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 No, no. Non ha questa abitudine? No. Niente. Maialini di marzapane, spazzacoli? Ma li ho visti, sì, li comprerò senz'altro. Lei li regala portafortuna per il nuovo anno? Generalmente no, perché non credo a queste cose, però ogni tanto, vediamo. Grazie. Un costume che nel tempo non è cambiato poi tanto e che in Alto Adige affida anche ai giovani Sternsinger e i cantori della Stella il compito di portare la Buona Nuova con l'augurio di un anno davvero felice. E assieme a queste piccole, beneauguranti opere d'artigianato, se vogliamo anche gastronomico, c'è chi si augura al di là delle scaramanzie da ultimo dell'anno, un 2010 davvero diverso. Io mi tengo la mia salute, sto bene e basta. No, no, no. Non regalo niente io. No, perché la fortuna è una cosa che penso venga senza i regali. Se deve venire. Regalo? Cosa dovrei regalare? Qualcosa di... La salute è il più bel regalo che può avere, specialmente nella nostra età.